Cari amici, devo chiedervi una cortesia molto molto importante. Per questo motivo mi sono vestito la Iena e sono entrato qui dentro lo studio delle Iene. Allora, col cuore in mano, vi chiedo, affianchiamo tutti quanti Airet, l'associazione che si occupa di aiutare le bambine dagli occhi belli, quelle povere bambine che sono colte da una malattia improvvisa, infame, che ti distrugge. Ecco, questa associazione, questa Ollus, si occupa della ricerca per dare una mano a queste giovani e innocenti vittime di una malattia, ripeto, infame. Quindi, andare sul sito www.airet.it e troverete tutte le informazioni per dare una mano a queste persone veramente d'oro. Grazie.